Giuliano Gelci era nato a Pinzano al tagliamento 65 anni fa, ma è stata sempre Trieste la città del suo impegno sociale e civile. Ieri Gelci se n'è andato all'ospedale di Pordenone dove era ricoverato causa l'aggravarsi dei suoi problemi di salute avvenuto proprio a Pinzano. Il nome di Giuliano Gelci è legato al servizio civile, già che questo gigante buono, proprio per questa sezione dell'Arci, aveva profuso fino in ultimo le sue energie, ma non si può dimenticare un'altra sua grande passione, la montagna. Proprio un mese fa aveva presentato l'edizione 2023 del Festival del Cinema di Montagna, frutto del lavoro dell'Associazione Monte Analogo. Andando ancora più indietro con gli anni, non si può non ricordarlo a capo dell'Unione Italiana Sport per Tutti e quel per tutti è proprio la cifra della sua vita, spentasi troppo presto.